Sono io che ho visto passare l'umanità, sono io che ho percepito l'evoluzione, sono io quella che hanno ferito. Nonostante tutto quello che ho dato, non ho ricevuto niente in cambio. Ho solo chiesto amore e protezione, ma l'uomo ha portato solo distruzione. La vita di chi non ha voce non sembra importare, pochi si rendono conto e cercano di aiutare, molti osservano e dirigono lo sguardo altrove. Grazie.